La musicologia è più nello specifico estetica e filosofia della musica. Come approcci la peer review nel tuo campo? Se l'articolo è sviluppato bene, se c'è una logica dell'argomentazione, se ci sono dei contenuti, se c'è una struttura che generalmente è chiara. Questo è un primo aspetto direi molto generale che riguarda un po' tutte le discipline umanistiche, penso. Poi più dello specifico può esserci un po' l'adeguazione se lo fai per una rivista, per esempio con il progetto scientifico della rivista. Se la rivista riguarda l'analisi musicale, evidentemente ci saranno piuttosto alcune pertinenze che altre. Se la rivista è più di filosofia, bisognerà che qualche contenuto in qualche modo sia attinente a questa disciplina. Quindi ci sono dimensioni che qualche volta sono proprio chiaramente disciplinari o interdisciplinari, ma è comunque un primo criterio molto generale. Dopo direi che c'è quella che è più difficile a valutare che è la qualità scientifica dell'articolo. Di solito una prima caratteristica che si giudica è quella dell'originalità del tema scelto. Evidentemente se si tratta di cose proprio straconosciute, dove il contenuto di informazione dell'articolo è minimo, si può avere qualche dubbio, ma almeno l'originalità della tematica scelta è un criterio importante. Poi direi una certa chiarezza della problematica. E poi se si va più nello specifico musicologico, io direi se gli oggetti musicali studiati sono studiati con una certa pertinenza, cioè con un lessico, un vocabolario che è sufficientemente adeguato. E peraltro poi direi che non andrei tanto più oltre di questi criteri qui. Qualcuno fa anche valere molto la letteratura, cioè che ci sia della letteratura recente e citata sufficientemente. Qualche volta questo succede, qualche volta gli articoli non sono completamente attuali da questo punto di vista, ma avrei una certa tolleranza rispetto a questo criterio. Perché molto spesso mi accorgo che le tradizioni sono molto diverse, tradizioni musicologiche o anche speculative generalmente. E quindi molto spesso non c'è osmosi tra autori che si citano entro una certa orbita e autori che si conoscono in un'orbita diversa. Per anni, per esempio, non so, c'è stato tutto un dialogo tra semiologi, semiotici. Oggi ci sono gli analitici da una parte, ci sono i musicologi più fondati sull'etnomusicologia, quelli sulla teoria musicale. Ogni volta c'è una specie di comunità che si può identificare dietro, ma l'importante è che l'articolo porti dell'informazione e sia sufficientemente coerente. Quando ci sono questi due caratteri non andrei tanto oltre, sarei piuttosto tollerante anche su eventuali difetti. Grazie. 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 Grazie.